Questo è un mondiale importantissimo perché qualifica per l'Olimpiade, dà i posti alla nazione per l'Olimpiade, per cui è anche una responsabilità grande degli atleti che sono su ghiaccio. Sì certo, poi tutte le federazioni, soprattutto quelle più importanti, contano molto sui loro atleti. Abbiamo visto il Detroit, la squadra russa ha schierato un plotone, non una squadra tra allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, team leader, avevano veramente di tutto. La prima cosa che succedeva venivano mandati in aereo a New York, tutto su di qua che là essere curati, insomma le federazioni, soprattutto quelle importanti, hanno investito molto in questo mondiale. Però poi lo si gioca in quei due minuti e cinquanta. Come diciamo noi poi, la gara è la gara. E allora andiamo a seguire la gara di Marisa Castelli e Simon Snapper, loro sono i campioni nazionali. Buon triplo twist iniziale, molto alto. Va giù lui sul triplo salto. Fuori misono l'inizio del secondo piede della trattura combinata. Bel triplo salto. Altissimo. Altissimo. Grazie a tutti. 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 Sì, assolutamente le coppie americane non riescono ad arrivare in cima. Anche questa volta speravano veramente con quest'ultima coppia di scalare un po' le classifiche mondiali, di avvicinarsi quantomeno al podio. E invece anche questa volta c'è stato l'unico scopo niente. Loro stanno migliorando, Marissa Castelli e Simon Schnapp stanno migliorando, però anche oggi un po' di tensione, un errore su un salto pesante. Ed ecco allora il loro punteggio ed è 55 e 68. Il secondo punteggio che abbiamo visto finora perché è 57 e 65 e quello dei cinesi sui An. hanno un 29 e 62 di tecnico e 27,06 per quello che riguarda i components. Dunque per quanto riguarda i components, quindi hanno un punteggio superiore alla coppia cinese sui An che aveva 26 e 98, ma nel tecnico i cinesi pur di poco comunque sono davanti a loro.